cos'è quel rumore voglio andare a vedere no abbiamo sentito il rumore io non ho paura no io invece sì ho paura claudia dove vai aspetta 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 ma sembra che qualcuno è passato di qui cos'è questo rumore cos'è quel rumore c'è l'alieno in casa c'è l'alieno in casa ho un'idea che idea? l'idea con questi soldi all'alieno vuoi dare i soldi all'alieno? e che se ne fa? alieno vieni qua no si pazza quello viene e si arrabbia alieno ti dai soldi di vittoria no sono i soldi miei quelli dammi i miei soldi alieno ti dai soldi di vittoria fede visto prima quando è arrivato al studio è io non l'ho preso lo voglio questo te lo regalo io non lo voglio lo vuoi? sapete che voglio io cosa vuoi? vi andiamo a vedere che è che aveva a vedere di qua? che è che va a vedere di qua? ho paura ma fede mi sto facendo l'avevi sotto che c'è? vuole aprire vuole aprire sta qua dietro avete sentito? sta arrivando sta arrivando è qua piscina senti sta venendo qui vediamo non mi sento la sua è qua scappate scappate le dita 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 come fai? quando fai i giochi di minecraft ah si anche claudia che ti nascondi qua dietro? ma non ti se no te non ti vede vieni dai se si smatta male la testa che hai fatto? raga sei messo avanti alla caccia la caccia la senti a me avanti a questo coso non ci vede quindi oh ho sentito dei rumori ho sentito dei rumori che mi state nascondendo? non mi lasciate da solo non mi lasciate da solo ragazzi ho visto una cosa dovete venire dovete venire assolutamente è tutto bene bravia vieni vieni Claudia silenzio silenzio ok VittoFamily uniti VittoFamily venite apriamo lentamente la porta stati attenti potrebbe essere ovunque oh mamma c'è l'allino lì sopra sta venendo sta venendo sta venendo qua sta venendo qua chi è? qualcuno ha postato la porta facciamo una cosa si io gli do questi soldi in cambio che lui non ci spaventa più ok però tu hai il garage di andare a vivere ma non è che ci inganna lui ci mangia no lui ci inganna ci mangia l'allino vieni vieni Claudia vieni vieni Claudia vieni dammi la mano sì dove è? a me è qua fuori? l'avete visto qua fuori? ho paura hai paura? ma sei ho paura tranquilla Claudia Vittorio ci penserà lui a parlare con quell'alieno sei più magro dell'altro ieri grazie sono dimagrita un bel complimento Claudia grazie no sei ingrassata ho detto ecco adesso adesso non è più un complimento questa sei tu Vittorio divi dove ci andiamo vieni Claudia l'allino è qua dietro no la porta è chiusa a chiave Claudia Federica dove siete? mamma mia questo tavolo è vivo ah no Claudia sei tu ora dov'è Federica? non lo so ma qualcosa mi dice 1 2 3 eccola ecco prende un braccio di Federica si vede ecco ecco Federica allora sei te allora un sondaggio per la Vittorio Family sondaggio allora senza frangetta così con la frangetta preferite Federica con la frangetta così oppure senza la frangetta senza la frangetta allora lei risponde senza tu io rispondo con e altri nei commenti scrivete scrivete nei commenti se volete Federica con la frangetta oppure senza la frangetta ecco però se faccio così sembra un cane no se vedete faccio mi sembra un uovo no è comunque ragazzi dobbiamo evocare un piano per sconfiggere l'alieno ok serve un piano per sconfiggere un'idea che idea hai per sconfiggere l'alieno? e ora sei sola come fa? no ora è nuvoloso non c'è il sole ora viene a piove il fuor temporale cos'è questo rumore? taglia erba con le cacchioppe forse è l'astronave dell'alieno è l'astronave dell'alieno allora io e lei siamo nascosti quindi dovete trovare un nascondito ma perché devi trovare l'ascondito da solo? ti aiuto io grazie Claudia dove andiamo? ragazzi sotto a quel tavolo che è più grande tutti insieme si ok ma qua ci vede qua sotto vede questo disegno l'ho fatto io però l'ho fatto a caso quindi non è tanto bello però sto disegnando più bene hai sentito? l'alieno sta arrivando Claudia dove vai? no fede non mi lasciare da solo sento un rumore oh mammina guardate è dietro la porta è là dietro ci sta guardando oh mamma voi rimanete qui ma respirate? così ok io vittorio mi sacrificherò in nome della VittoFamily andiamo a vedere dov'è questo alieno alieno puzzi puzzi tantissimo alieno lo sai che non ti lavi le ascelle e la tua bambina ti sgritta sempre perché non te le lavi ecco ti puzzano i calzini ti puzzano i denti la mano dell'alieno apri questa porta ah è fifore non riesce ad aprirla ragazze venite a vedere c'è una cosa strana guardate cosa c'è là in fondo del corridoio guarda è l'alieno è l'alieno eh io non ci sono mai avviciniamoci avviciniamoci è una trappola è una trappola no non credo che sia la trappola si muove nascondiamoci dietro al divano nascondiamoci no tu non sei invitata io voglio nascondermi ma tu ma perché non posso venire tu sei invitato io sono a mia avvicinito no ma è in quell'altro scusa che mi puzzano i calzini eh no 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 non adorare no non vomitare claudia voglio non vomitare che schifo sui miei calzini hai vomitato claudia sento dei rumori c'è qualcosa guarda è l'uomo mantello ma è una trappola mamma ma cosa la chitarra è un alino è un alino che suona la chitarra alino iso scema shhh sta zitto alino iso stupid no ma sei scemmo che hai messo la fredda sta fredda sto vedendo sto vedendo sto vedendo sto vedendo la fredda sto vedendo stop sto vedendo sto vedendo no no